Buongiorno a tutti, sono Floria Di Stefano, sono la figlia di Giuseppe Di Stefano, il tenore. È venuta l'ora che io parli perché sento tante storie riguardo a mio padre e adesso anche questo signorini esce con dei commenti così falsi. Si vede che c'è la necessità in questi uomini così particolari di adorare una diva e per essere il loro rappresentante nazionale. Conosco già tre o quattro che si vantano di essere loro i proprietari del marchio, addirittura il marchio Maria Callas. A me viene da ridere, tutta sta gente qui non l'ha mai vista da vicino, non la conosce, tira fuori interviste con personaggi che non l'hanno mai conosciuta e quindi possono scrivere quello che vogliono nei loro libri. Io, signorini, avevo offerto due anni fa tramite l'Aristide e Malnati un'anteprima sul mio libro che ho scritto, la Callas che ho conosciuto io, ma non era interessato e invece adesso era interessato a delle pagine dal libro di mia madre Callas, nemica mia, per abbellire il suo libro in ristampa a quale ho detto di no perché deve abbellire il suo libro quando potrebbe far ristampare con la Mondadoria. Mondadoria mi ha chiamato, mi ha scritto, se possono usare il libro, le pagine del libro in ristampa, dico perché non lo pubblicate? Cos'è, solo un prendere senza dare? e allora per vendetta adesso nel suo libro ha scritto delle stupidate che mio padre non era fascino, che era gofo nei suoi vestiti di goji. Ciao, signorini. Ciao, signorini. Grazie a tutti